Salve a tutti, eccoci qui con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quest'oggi parliamo degli aspetti che Mercurio fa con Chirone nel tema natale. Cosa significa avere un aspetto difficile e cosa succede quando una persona nel suo tema natale ha un aspetto già facile o ha lavorato sul suo aspetto difficile di Chirone con Mercurio. Allora qui è coinvolta chiaramente la questione della comunicazione essendo coinvolto Mercurio, del pensiero e della comunicazione e essendo legato a Chirone è chiaro che c'è qualcosa da sistemare riguardo a questo tema. Vediamo cosa succede. Aspetto difficile. La capacità di comunicare il proprio pensiero e il proprio sentire è difficoltosa la capacità per eccessivo ritegno, per finzione, per una contorsione nell'esposizione che la rende poco comprensibile per mancanza di semplicità o di fluidità. Cioè ci possono essere varie problematiche. L'incapacità di comunicare il proprio pensiero, l'incapacità di formulare dentro di sé un pensiero coerente che possa essere espresso e capito da chi ci ascolta. Quindi ci potrebbero essere degli intoppi in varie fasi di questo processo comunicativo, di pensiero e comunicativo. Quindi o nella fase propriamente del pensiero o nella fase dell'esposizione di questo pensiero, troppa enfasi o poca enfasi come ho detto, un ritegno o una sovra eccitazione nel momento in cui la persona espone il suo pensiero e vuole comunicarlo all'esterno. Comunque in ogni caso ci sono delle difficoltà. Chiaramente non ci riferiamo a delle carenze di tipo cognitivo da parte della persona, ma a proprio delle difficoltà che hanno la loro profonda origine in delle ragioni psicologiche. Vi faccio un esempio di quello che intendo. Naturalmente queste ragioni psicologiche, educative, carmiche, chiamatele come volete, hanno origine in altri aspetti del tema natale che si possono riscontrare. L'aspetto difficile Chirone-Mercurio ci segnala solo che esiste questo problema, ma per capire dove origina questo problema dobbiamo poi andare a vedere eventualmente altri aspetti del tema natale. Facciamo un esempio, una persona che avesse per esempio un esubero di intensità nel proprio tema natale, unita a una timidezza, un'educazione ricevuta molto limitante. Chiaro che questa persona nel momento in cui cerca di esporre il proprio pensiero, da un lato sente una grande pressione per esprimerlo, per farlo sapere al di fuori quello che pensa, ma nello stesso tempo contemporaneamente trattiene, trattiene la propria energia e quindi la comunicazione che esce da parte di questa persona può risultare stentata oppure altalenante nel livello di energia, tipo quelle persone che parlano come se sparassero delle raffiche di mitraglietta ogni cosa che dicono. Non necessariamente sono delle persone aggressive, ma sono delle persone che dentro di sé hanno una contraddittorietà nel proprio modo di voler esporre. Una tendenza a enfatizzare, dovuta magari al loro alto livello energetico, è una contemporanea tendenza a voler trattenere questo esubero di energia per ragioni educative o karmiche. Quindi capite che la questione è abbastanza complessa. Comunque in ogni caso sappiate che ne derivano sempre delle distorsioni nel tipo di comunicazione. Vediamo ora che cosa succede quando la persona è riuscita a lavorare questo aspetto difficile fra mercurio e chirone e che cosa succede. Aspetto facile. La comunicazione è scorrevole, chiara ed efficace ed esprime sempre la realtà di quello che la persona pensa e sente. Senza finzioni ho bisogno di far apparire chi esprime diverso da quel che è. Quindi c'è una completa pacificazione della persona con se stessa, con quello che è, con tutte le varie pulsioni al proprio interno riguardante la comunicazione. Perché capite che l'atto del comunicare è legato inscindibilmente ad altri aspetti del nostro porci nel mondo. Che effetto farò? Cosa penseranno gli altri di me? Cioè la comunicazione è un ponte che noi gettiamo da dentro di noi a fuori di noi. Saremo capiti? Non saremo capiti? Cosa pensano di noi quando diciamo quello che abbiamo da dire? Quindi capite che questo aspetto della comunicazione è necessariamente sempre collegato ad altri aspetti molto più profondi del tema natale. Quindi ricordatevi sempre, lo dico anche per chi dovesse interpretare dei temi natali, che un aspetto difficile, Mercurio Chirone denota delle difficoltà di comunicazione. Ma per capire a che cosa siano imputabili queste difficoltà di comunicazione bisogna andare ad esplorare altri aspetti del tema natale. E con questo vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e ci vediamo la settimana prossima con Mercurio Lilith. Salve a tutti! Grazie 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 a tutti!